Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario, argomento del giorno Gabriele? Parleremo di fideiussioni bancarie e in generale degli strumenti di finanziamento per le imprese con i nostri ospiti. A tra poco! A tra poco! Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario, come anticipato in apertura in questa puntata parleremo di finanziamenti e di strumenti di finanziamento, in particolar modo di fideiussione, cercheremo di capire cosa significa fideiussione, cos'è e soprattutto quale garanzia personale per l'accesso a determinate tipologie di strumenti finanziari. E lo faremo con i nostri ospiti, partendo da un saluto all'ospite che qui ho a fianco, l'avvocato Danilo Lombardo, founder dello studio Legale Lombardo. Ben arrivato! Buonasera, grazie! E saluto anche l'altro ospite in collegamento, il dottor Mariano Spalletti, country manager di Conto Italia. Ben arrivato! Buonasera, grazie per l'invito! Dunque, partirei da lei, avvocato Lombardo. Fideiussione Omnibus, che cos'è, quali criticità presenta il modello adottato dalle banche? Allora, la fideiussione Omnibus è una fideiussione assunta, diciamo, generalmente dalle banche dalla fine degli anni 90 fino ad oggi, ed è una garanzia personale che una persona presta normalmente all'atere di un mutuo chirografario piuttosto che un'apertura di credito e che garantisce non un'obbligazione specifica, come previsto dal Codice Civile, ma tutte le obbligazioni che il debitore principale assume nei confronti della banca. Perché è nato questo dibattito in dottorio di giurisprudenza? La ragione risale al 2003, quando l'ABI adottò un modello uniforme, uno schema predefinito di fideiussione Omnibus da proporre a tutti quanti i suoi aderenti. Cosa prevedeva questo schema uniforme che poi è stato sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia? Prevedeva delle condizioni particolarmente severe per il fideiussore che la Banca d'Italia rilevò come in violazione della normativa antitrust. In particolare le condizioni erano tre, la 2, la 6 e la 8. Queste condizioni prevedevano la riviviscenza della fideiussione, la sopravvivenza della fideiussione e la rinuncia da parte del garante al termine previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile, ovvero alla possibilità per la banca di dover agire nel termine massimo di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Queste tre particolari clausole erano molto onerose per il fideiussore, in quanto prevedevano in sostanza che il fideiussore dovesse garantire il pagamento della somma di denaro assunta dal debitore anche in circostanze eccezionali, ovvero quando la banca, nell'ipotesi di riviviscenza, fosse tenuta alla restituzione dell'importo pagato dal debitore principale, faccio un esempio per effetto di una revocatoria fallimentare, quando nel caso di sopravvivenza della fideiussione il garante era tenuto a pagare l'importo dovuto dal debitore principale, quando anche successivamente il titolo assistito dalla garanzia fosse dichiarato nullo e l'ultima, come dicevo poc'anzi, si privava la banca, quindi il creditore, di un termine entro cui dover agire per escudere la fideiussione. La ringrazio, io posto invece la parola al dottor Spalletti, parliamo un attimo anche della sua realtà e di come avete affrontato questo periodo di pandemia, sia durante il periodo e adesso in questo momento, diciamo che gradualmente e fortunatamente stiamo uscendo dalla pandemia, come è cambiato il rapporto con i vostri clienti? Assolutamente, allora anzitutto faccio un piccolissimo cappello introduttivo per spiegare cos'è il conto? Noi siamo una fintech, operiamo con una licenza di istituto di pagamento e offriamo a dei clienti, una clientela puramente business, un conto aziendale, appunto per semplificare quelle che sono le spese aziendali e la gestione delle spese dei team. Le sfide che il Covid ha dato, ha presentato alle aziende sono più o meno sempre le stesse, quindi chiaramente le sfide sono state principalmente legate alla riorganizzazione sia interna azienda che esterna relativamente a come le aziende evidentemente distribuiscono e offrono i propri servizi, in realtà, diciamo, Challenger Bank in generale, conto nel particolare, evidentemente rispetto soprattutto ai situti di credito tradizionali, hanno avuto una maggiore semplicità nel riorganizzare il tutto, sia perché già offrono i servizi, distribuiscono i propri servizi 100% online, sia perché evidentemente sono native digitali e quindi sono organizzate anche a livello di organizzazione del lavoro interno tra appunto i dipendenti e la società totalmente in cloud con completamente la mancanza di qualsiasi tipo di legacy. Chiaramente un'altra sfida principale, un'altra problematica in questo problema è stato legato a quelle che sono le revenues, quindi il fatturato aziendale che per molte aziende evidentemente è diminuito e devo dire che per dei servizi digitali come il nostro in realtà è stato l'effetto contrario perché anche forti, volendo aiutati un pochettino da quella che è stata in un certo qual modo, la disorganizzazione o una struttura dei situti di credito tradizionali non del tutto adeguata per un'emergenza di questo tipo, abbiamo visto un incremento dell'acquisizione della nostra base clienti, dei nostri clienti, se andiamo a considerare i tre mesi tra marzo e maggio del 2020 abbiamo addirittura acquisito l'80% di clienti in più rispetto al trimestre precedente, quindi in realtà è un po' una dimostrazione di come i servizi digitali evidentemente abbiano un vantaggio rispetto a determinati servizi di tipo tradizionale. Per quanto riguarda il rapporto con i nostri clienti effettivamente questa è stata un pochettino la chiave del nostro successo in generale ma anche in particolare in questa parentesi di crisi pandemica che c'è stata in Italia così come in Europa, abbiamo agito su tre fronti tendenzialmente, abbiamo agito su fronte delle offerte aumentando e ampliando quello che è il periodo di gratuità per accedere ai nostri servizi ma anche dando la possibilità di ad esempio attivare gratuitamente un numero illimitato di carte virtuali, in questo caso comunque tutti quegli strumenti che aiutavano la gestione delle spese in maniera cashless, quindi senza appunto dover avere un contatto né col contante né tantomeno in questo caso con le carte essendo appunto virtuali. Il secondo asse è stato agire sul prodotto, quindi evidentemente sviluppare accelerando lo sviluppo a livello di roadmap di prodotto di alcune funzionalità che avevamo previsto, io parlo un po' più in avanti, che abbiamo in realtà velocizzato, parlo dell'implementazione ad esempio delle nostre carte con Google Pay, con Apple Pay ma anche l'accelerazione a livello di accordi commerciali con dei partner come Satisfay che hanno la possibilità di offrire ai nostri clienti la possibilità di incassare dei pagamenti in maniera del tutto digitale. E poi il terzo asse che è forse quello anche più importante è quello del posizionamento non tanto come fornitori di un servizio, quindi ho la possibilità a dei business di aprire un conto business con Conto, ma proprio come il proprio partner di business, quindi attraverso la comunicazione, attraverso una serie di iniziative, per esempio webinar che abbiamo fatto in particolare l'anno scorso, ci siamo focalizzati nel semplificare la comprensione da parte delle imprese di tutte le iniziative che sono state messe in atto dal governo con i vari decreti che sono succeduti, ma anche per sensibilizzare l'adozione dei servizi digitali tanto per quanto riguarda i servizi finanziari come il nostro, ma anche in senso più generale per dare delle tips, per dare dei suggerimenti, per accelerare la transizione sul digitale anche per tutta quella parte di processi interni all'organizzazione che ovviamente semplificano l'operatività quotidiana e il day by day delle aziende. La ringrazio e poi ritornerò naturalmente da lei per un'ultimissima domanda. Io passo invece la parola all'avvocato Lombardo al quale abbiamo parlato di fiduizione omnibus, però diciamo c'è stato, cerchiamo di capire anche qual è stato il motivo, qual è il motivo che ha portato ad un acceso dibattito tra dottrina e giurisprudenza. Il dibattito tra è origine da un provvedimento della prima sezione della Corte di Cassazione risalente al 2017. Il sopravvedimento ha aperto il dibattito su una serie di temi, i più importanti sono quando può ritenersi una fiduizione toccata dalla normativa antitrust e la conseguente nullità che ne dovesse discendere a carattere assoluto o carattere relativo. Questo perché? Perché nel 2017 con questa ordinanza la Corte di Cassazione, riformando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, ha sostanzialmente esteso gli effetti del contrasto di queste clausole con la normativa antitrust anche alle fiduizioni prestate prima del provvedimento assunto dalla Banca d'Italia nel 2005. Ovvero, mentre la Corte d'Appello di Venezia, nel caso specifico trattato, aveva escluso che potesse essere affetta da nullità assoluta o relativa a quello, poi è un tema ancora diverso, una fiduizione che fosse stata sottoscritta precedentemente al provvedimento assunto dalla Banca d'Italia, la Cassazione invece ha detto che il modello uniforme assunto dall'ABI e che poi è stato sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia non fa altro che recepire un'intesa restrittiva della concorrenza già messa in pratica dalle banche e quindi ha ritenuto che anche le fiduizioni che fossero precedenti al 2005, quindi al provvedimento che ha assunto la Banca d'Italia verso l'ABI, potessero essere colpite da una sanzione di nullità. La ringrazio, io torno per un'ultimissima battuta al Dottor Spalletti, abbiamo veramente pochissimi minuti per questa prima parte di doppio binario, quindi le chiedo proprio una risposta veloce al volo, in che modo intendete rivoluzionare, ritornando un po' a voi, il concetto di gestione finanziaria per le imprese? Innanzitutto è molto interessante sentire anche l'altro ospite per vedere quello che è l'accostamento di stili e di realtà che si sfiorano ma non ci toccano, come dicevo noi ancora non siamo in istituto di credito, siamo un istituto di pagamento, quindi questo mi diverte molto e grazie appunto per questa opportunità e per questo confronto. Per rispondere a questa domanda direi che la risposta è semplice, vogliamo rivoluzionare il mondo dei servizi finanziari per il business focalizzandoci in verticale su quelle che sono le esigenze dei clienti business, quindi a differenza di altri istituti, di altri challenger bank e di altri competitor, di servizi più o meno sostituibili tra i loro, noi non stiamo adattando un servizio che è stato concepito per dei clienti privati, noi siamo degli imprenditori che hanno sviluppato un istituto, un servizio per degli imprenditori, siamo partiti col conto business per poi spostarci allargando il servizio a un sistema di business finance management, quindi gestione delle finanze aziendali, andando a attaccare via via i servizi di fatturazione, di contabilità e tutto quello che può essere complementare, ma la cosa che ci caratterizza fondamentalmente e con la quale vogliamo essere un aiuto reale, concreto per gli imprenditori, per i manager, per le aziende che scegliono il nostro servizio, effettivamente mettere i clienti al centro anche quando si parla di sviluppo del prodotto. Il nostro use case è estremamente chiaro, i bisogni dei nostri clienti ci sono estremamente chiari e partiamo da quelli per sviluppare delle soluzioni e non facciamo il contrario. La ringrazio dottor Spalletti per essere stato qui con noi per il suo contributo. Grazie a voi. Ringrazio ovviamente anche il mio ospite qui in studio, l'avvocato Lombardo, che invito però a restare qui con noi per la seconda parte di Doppio Binario. Pochi minuti di pubblicità, ma restate qui con noi perché ritorneremo con Doppio Binario, seconda parte. Tra poco. Eccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario, continuiamo a parlare degli strumenti di finanziamento bancario, concentrandoci anche in particolare sullo strumento della fideiussione. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento e che sono l'avvocato Danilo Lombardo, founder dello studio legale Lombardo, ancora qui con noi. Buonasera. Il dottor Francesco Merone, CFO di SG Company. Buonasera anche a lei. Benvenuto in collegamento. Avvocato Lombardo, io parto da lei e le chiedo qual è lo stato del dibattito in giurisprudenza circa la validità della fideiussione omnibus di cui abbiamo parlato appunto nella prima parte. Prego. Il dibattito è ancora molto acceso e non ha trovato una soluzione in quanto in giurisprudenza ci sono orientamenti contrastanti, sia presso le corti di merito che in Cassazione. Quali sono i temi caldi su cui non vi è uniformità di vedute? In particolare sono due. Il primo riguarda l'arco temporale, ovvero se le fideiussioni che presentano le clausole previste nel modulo AB del 2003 possano essere sanzionate con annullità solo se firmate successivamente al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia nel 2005 e quale nel caso in cui la fideiussione venga raggiunta dalla sanzionata annullità, se sia annullità assoluta o annullità relativa. Come dicevo poco anzi il primo problema è stato risolto o comunque è stato affrontato nel 2017 dalla prima sezione della Corte di Cassazione che ha stabilito senza alcun equivoco che quando la fideiussione riproduca pedissequemente le tre clausole tacciate di violare la normativa antitrust la fideiussione annulla quando anche si è stata sottoscritta prima del provvedimento 55 della Banca d'Italia. Questo perché? Spiega la Cassazione. Perché il modello uniforme adottato dall'ABI che poi è stato sanzionato dalla Banca d'Italia non fa altro che recepire una condotta già preesistente delle banche, quindi un'intesa volta a restringere o a turbare il mercato della concorrenza. Quindi dice la Banca d'Italia anche le fideiussioni sottoscritte in epoca precedente al provvedimento della Banca d'Italia possono essere nulla. Perfetto, io Dottor Meroni mi rivolgo a lei per allargare anche un po' il discorso agli strumenti di finanziamento bancario che appunto in questo periodo particolare di emergenza sanitaria chiaramente possono dare un po' di respiro al sistema imprenditoriale italiano. Voi appunto siete una società Benefit e le chiedo appunto utilizzo e criticità degli strumenti di finanziamento bancario. Prego. Allora, sicuramente gli strumenti che abbiamo utilizzato in primis, quello più semplice, quello più immediato era la moratoria, quindi ottenere dalla banca la possibilità di pagare la quota in conto capitale non prima di 6 o 12 mesi che poi è stata riprorogata e quindi si sta allungando. Quindi questo è stato l'automatismo che sostanzialmente ha aiutato tutte le aziende in abbinamento invece al finanziamento minimo, quello dei famosi 30 mila Euro. Questi sono i primi strumenti che tutte le aziende hanno fatto, sostanzialmente hanno fatto e che ci hanno aiutato molto. Di pochi giorni la notizia che ho letto sul Corriere della Sera è che Banca Intesa per esempio inizierà ad alcuni clienti la possibilità di allungare questi finanziamenti fino a 15 o addirittura 20 anni. Quindi sicuramente questi sono i due pilastri su cui si è basata la microazienda o la partita IVA sui 30 mila e invece le aziende di medie dimensioni sulla moratoria. Aggiunte ad esse sono sicuramente, se torniamo a parlare invece di fiduzione di garanzia, sicuramente la possibilità di accedere a fondi di garanzia tramite la Sace, la Simest in maniera molto più veloce, meno legata ai rating aziendali e quindi si è allargata la platea. Queste sono soprattutto le linee di credito che più ci hanno dato una mano, ci stanno dato una mano in questi 12 mesi. Certo, ricordiamo soprattutto all'inizio sono state riscontrate diverse criticità, proprio appunto si è creato anche uno scontro tra il mondo bancario e quello politico proprio per la mancanza anche magari di alcune linee guida che sono mancate anche in altri specifici settori. Avvocato Lombardo, io torno da lei e le chiedo appunto le conseguenze di ordine pratico rispetto appunto all'orientamento giurisprudenziale a cui faceva riferimento prima. Certo. Allora l'altro tema che ancora non ha trovato una soluzione e che è molto dibattuto è quello di stabilire se la sanzione di nullità che raggiunge la fiduzione, che ripropone pedisseguamente le condizioni previste dal modello ABBI, sia una nullità assoluta o una nullità relativa. E la differenza non è da poco, perché nel caso in cui il Tribunale e la Corte stabilisca che è una nullità assoluta, la fiduzione perde qualsiasi efficacia e quindi il soggetto garantito non ha più alcun titolo per potersi rivolgere al garante e chiedere il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale. Se invece ci si orienta per una nullità relativa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1419 primo comma del Codice Civile, cosa succede? Le clausole incriminate vengono meno, ma rimane in piedi per le altre parti e quindi rimane efficace la fiduzione, con la possibilità quindi per il creditore, dove ne sussistano le condizioni, faccio per esempio, dove ancora sia in termine nel rispetto dell'articolo 1957 del Codice Civile, di potersi rifare sul garante. Quindi la differenza è importante e da risvolti pratici veramente notevoli. Bene, dottor Meroni, torno da lei e le chiedo quali sono gli strumenti di finanziamento che potrebbero comunque continuare a favorire lo sviluppo, perché adesso si deve parlare proprio di sviluppo delle aziende e non chiaramente di sopravvivenza. Prego. Sì, infatti questo forse è il tema del dibattito degli ultimi mesi, cioè bisogna distinguere due fasi, cioè la prima fase di lockdown dove effettivamente bisognava sopravvivere e far sopravvivere tutte le aziende, le partite IVA, le microimprese e la seconda fase invece dove probabilmente bisogna fare una scelta diversa, cioè bisogna cercare di capire chi è fuori mercato, già magari lo era prima, oppure perché è cambiato il mercato sarà fuori mercato domani. Queste aziende purtroppo bisogna che vengano messe non da parte, però bisogna che vengano gestite e finanziate in maniera diversa rispetto alle altre realtà, cioè quelle che invece per un motivo per l'altro sono riuscite a convertirsi, ad avere una nuova opportunità, hanno un nuovo progetto e quindi devono essere sostenuti. Il problema qual è? Che oggi invece si finanziano in maniera indiscriminata entrambe e quindi da una parte tu fai sopravvivere astendo qualcuno che comunque prima o poi mollerà, dall'altra tu stai impedendo che ci sia una vera ricrescita. Quando si parla di debito buono, di debito cattivo, non esiste un debito buono o cattivo, cioè dipende da chi lo eroga, nel senso che se lo Stato eroga un debito per salvarti è necessario, ma non è una questione imprenditoriale. Adesso bisogna iniziare a ragionare in termini imprenditoriali, quindi probabilmente ad alcune microattività 30 mila euro non sono sufficienti per rilanciarsi e stare sul mercato. Ad altre 30 mila euro non servono a nulla perché vuol dire semplicemente che tra 8 mesi saranno nella stessa situazione di problema. A maggior ragione invece i finanziamenti di cui parlavamo prima, cioè ti è dato un ok sulla moratoria, ma la moratoria riguarda attività e operazioni passate. Se invece tu vuoi dare la possibilità ad un'azienda di cominciare, di avere un piano di sviluppo, è nuova cassa, è nuova finanza che va valutata un po' con i criteri che abbiamo sempre avuto, cioè il merito creditizio, l'analisi. Dall'altra secondo me il governo deve dare la possibilità alla banca di avere un cuscinetto, quindi in questo modo la banca avrebbe una flessibilità maggiore. Quindi separare questo proprio stepico è necessario, non è una scelta, sennò rischi che anche quelli che possono portare un incremento del PIL sano all'Italia, si blocchino e comunque fanno danno anche agli altri. Questo è tutto il problema. Certo, viviamo insomma in una costante situazione emergenziale, sul piano appunto degli interventi da parte del governo, parlo chiaramente del governo passato, è mancata una visione diciamo di lungo periodo, nel senso che interventi strutturali in questo anno non ce ne sono stati. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, l'Avvocato Danilo Lombardo. Grazie a voi, buonasera. E grazie anche al dottor Francesco Merone. Grazie, buonasera. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.